I cavalli sono in partenza. Partiti. Ubi Maior è in vantaggio nei confronti di Calmariff, poi The Broker, per linea interna risale in quarta posizione Aretha Star, poi Bonny in love, quindi ancora Cult Firefigure, Tap Flicker e Sirai. Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo. Sempre con Ubi Maior che conduce nei confronti di Calmariff, poi Aretha Star per linee interne, a largo figura The Broker, con vicino anche Tap Flicker, ancora Cult Firefigure, Bonny in love e in coda Sirai. Non cambiano le posizioni lungo l'arco della curva e Ubi Maior affronta al comando la retta di arrivo, avendo all'esterno Calmariff, che ha all'interno Aretha Star. Seguono Tap Flicker, The Broker, poi più all'esterno Cult Figure, Bonny in love e Sirai. Siamo a 350 dal palo, con in vantaggio sempre Ubi Maior nei confronti di Calmariff, Aretha Star, quindi The Broker e a largo di tutti i Cult Firefigure. Nel tratto conclusivo Ubi Maior lungo lo steccato sta mantenendo saldamente la meglio e se ne va nel finale. Ubi Maior si impone nettamente su The Broker, poi Calmariff al terzo posto. Andiamo a rivedere le immagini con la bella affermazione di Dario Vargio in sella Ubi Maior. Numero 8 dello schieramento, in testa da un capo all'altro e nel finale ha allungato in scioltezza, per concludere agevolmente, nei confronti del numero 7 The Broker. Mentre per il terzo rimane in quota il 3 di Calmariff, 8-7-3 il probabile ufficioso arrivo della terza di Napoli.